Qua non c'è niente, se non vai fuori a lavorare, diciamo, io non ho la scuola, ho la terza media, non che c'è un diploma che dico guarda, me ne vado all'ufficio e lavoro all'ufficio. L'unico punto che mi ritrovo io attualmente è lavorare in galleria, solo là puoi andare a lavorare e dobbiamo ringraziare a Dio che ci sono questi lavori.